luce vita numero 35 di domenica primo novembre 2020 il settimanale diocesano dedica la prima pagina alla festa di tutti i santi che desideriamo onorare con la poesia sono questi i tuoi santi di david maria turoldo a pagina 2 le parole di don giovanni de nicolo direttore dell'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti che quest'anno assume un significato particolare in memoria delle vittime della pandemia che stiamo affrontando a pagina 3 cronaca a cura di roberta carlucci della prima serata del convegno pastorale diocesano in cui ha relazionato don vito mignozzi preside della facoltà teologica pugliese sulla conversione missionaria della parrocchia a pagina 4 prosegue l'attenzione sui temi emersi dal festival della comunicazione vissuto in diocesi nel mese di maggio cogliendo anche la sollecitazione del programma pastorale a riflettere sull'etica della comunicazione il giornale presenta dunque una riflessione di don vincenzo marinelli sull'importanza dei social nell'azione pastorale della comunità cristiana a pagina 5 audiant la rubrica dedicata all'episcopato di monsignor bello correlata quest'anno alla questione ecologica per offrire un contributo all'anno dedicato alla laudato sì questa settimana condividiamo la seconda parte della riflessione il bello del creato di don ignazio pansini con focus sul trinomio pace giustizia e salvaguardia del creato la pagina dedicata all'attualità offre due spunti che invitano i lettori a meditare sull'attuale situazione legata alla pandemia e alla possibilità di ripartire nel primo onofrio lo sito condivide le sue valutazioni sullo smart working come nuova frontiera del lavoro nel secondo il dottor giuseppe granianiello prova a rispondere alla domanda di ripresa delle attività ecclesiali tra tanti dubbi e difficoltà a pagina 7 don gaetano bizzò correttore del santuario di calentano scrive a proposito della restituzione delle carte gloria del santuario dopo 50 anni di permanenza presso il museo diocesano di bitondo in ultima pagina la spiritualità a cura di don massimiliano de silvio alcune precisazioni liturgiche sul dpcm del 25 ottobre e l'informazione circa le indulgenze plenarie per i defunti chiudono il giornale gli auguri a sua eccellenza monsignor marcello semeraro prefetto per la congregazione per le cause dei santi che il 28 novembre prossimo sarà elevato alla dignità di cardinale auguriamo a tutti voi una buona lettura